Ci sono state delle persone che tutte le mattine speravano persino a un certo punto nel maltempo. C'è gente che diceva, quanta gente c'è all'Expo? Tanta! Porca miseria, è andata male. Quasi che pensassero possibile bloccare l'Expo dando un messaggio contro il governo. Ma non si tratta di essere pro contro il governo, si tratta di essere pro contro l'Italia, il nostro paese. Non è possibile continuare a dire di no. C'è chi dice sì! Sono le immagini di tanti luoghi dell'Europa alla faccia di chi per settimane e mesi ha occupato i talk show dicendo che questo era un problema del governo italiano, non rendendosi conto che c'è un livello di umanità sotto il quale non bisognerebbe scendere, arrivare a strumentalizzare anche questo. Anche la vita strumentalizzano. Non rendendosi conto che di fronte a quelle immagini non c'è il PD contro la destra. Ci sono gli umani contro le bestie. E basta! Grazie! 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 Grazie!